Avvocato, scusi, sta bene. Ecco, cosa ha rappresentato Platini per la Juventus e per lei in questi cinque anni? No, Platini, per tutti quelli che amano il bel football è il più bel football che si è potuto vedere. Naturalmente il fatto che smette è un grosso dispiacere per la Juventus, ma anche per chiunque ama il buon calcio. E' stato un grosso affare per la Juventus, Platini. Diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di panna. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro in un attimo tu. Sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche Sono tranquille più di me Non devono discutere ogni cosa Come tu fai fare a me Ricevo un regalo Tu sei un uomo fedele, almeno alle squadre di calcio. Tre squadre nella tua vita. Nensis, Sant'Etienne e Juventus. Bisogna sempre migliorare. No, sì, perché era la mia città. Sant'Etienne perché era la migliore in Francia E Juventus perché è migliore in mondo. No, sì, perché era la mia città.